In provincia c'è più gusto, un progetto presentato dall'assessorato al turismo della provincia di Roma. È un modo di fare turismo diverso, noi puntiamo a ribaltare l'offerta turistica, non più tre giorni a Roma e un giorno in provincia, ma tre giorni in provincia e magari un salto nella nostra bella capitale. Riteniamo che questo sia un livello di conoscenza diverso, sia un attrattore turistico importante e invitiamo davvero tutti i turisti a venire a conoscere e ad assaggiare la provincia di Roma.